Basta, ok? Basta, perché io non posso fare una sfida solo con un Latias, datemi un Arceus, non un coniglio, dai! Nello scorso episodio, ragazzi, abbiamo fatto i Pokémon Shiny, abbiamo fatto la sfida con lì nell'ultima, vi ho promesso che i Pokémon Shiny e abbiamo raggiunto un bel numero di like, quindi mi raccomando di lasciare un bel mi piace e un bel commento, perché oggi siamo tornati con i Lucky Block dei Pokémon, questa volta non Shiny, però, come vedete, nel commento qua davanti, ragazzi, ho scelto una squadra Pokémon per il buon Berlino e ho messo, comunque, tutti quanti i Pokémon Shiny per la sfida, perché, comunque, la cosa mi è piaciuta veramente tantissimo, però oggi ci spawneranno soltanto i Pokémon non Shiny, oddio, potranno spawnare anche Shiny e la nostra speranza è poter utilizzare quel famoso Rayquaza Shiny che ci ha spawnato la scorsa volta, però, come vedete, ragazzi, ci sono 32, 32 Lucky Block, quindi 64 Lucky Block da utilizzare e oggi potremo avere in squadra soltanto i Pokémon leggendari, cioè una squadra effettiva finale, quindi, mi raccomando, noi continueremo a prendere tutti quanti i Pokémon. Ovviamente, vi invito a lasciare un bel mi piace e un bel commento, iscrivervi al canale se ancora avete fatto, perché è importantissimo iscriversi al canale, è davvero molto importante. Vedo che tanti stanno seguendo questa serie di Lucky Block Pokémon, ma magari ancora non sono iscritti. Comunque, abbiamo iniziato già con i primi due Pokémon, abbiamo trovato un Sorrock, abbiamo trovato un po' di gente, è veramente un bel po' strana, lasciamo stare, un Mike Tiena. Ragazzi, oggi posso utilizzare solo Pokémon leggendari, quindi questo cavallo qua non è assolutamente un Pokémon leggendario. Peccato perché ci sta andando un pochino male nei primi Pokémon. Qualche Pokémon leggendario vuole spawnare, vuole farmi il fano... Ma allora, con tutte le bocche che ho lanciato questo corso là, non è riuscito ad entrare. È veramente bagattissima questa versione da Pixel, perché i Pokémon iniziano a rincorrerti, non capisco mai il motivo, però lasciamo stare. Ovviamente, ragazzi, c'è qua sopra la playlist in alto, là in fondo c'è una playlist con tutti quanti i video che potete vedere, video delle Lucky Sfide con i Lucky Block con i Pokémon, quindi mi raccomando, un Latios. Ok, finalmente, il primo Pokémon leggendario lo abbiamo trovato. Un Latios, in realtà non un Latios. Scusatemi il fail, ragazzi, so che tanti mi correggono sempre nei commenti per dirgli, ma in realtà è spawnato quel Pokémon. Allora, io so che tu stai arrivando a ZigZag perché vuoi... Guardatelo, che furbo che è! Vabbè, lasciamo stare. Comunque, dicevo, c'è la playlist con tutti quanti i video dei Poké Lucky per vederveli. Mi raccomando, dopo questo video, quindi correte a vedervi gli altri video se vi siete persi. Oppure giusto per rivedervi perché sono veramente le sfide super mega divertenti. E dove... dove... ti vedo... Dove è andato, ragazzi? Che palla, abbiamo perso... abbiamo perso un Pokémon! Ma dove diamine è andato? Comunque, avendo messo i Lucky Block così smezzati, non capisco quanti... Ok, ora 49. Scusate, non riesco a fare delle somme divise in quel modo e va bene così. Comunque, ci è andato un po' male, raga, perché onestamente, per ora, di Pokémon leggendari, ce n'è esplorato soltanto uno. E ci è esplorato pure uno scheletro, ragazzi! Ma che ignoranza è questa sfida qua oggi? Ecco, lo sapevo. Anche un porcellino. Ma perché stanno così male, ragazzi? Io, ovviamente, al primo colpo ve la carico, perché non voglio, magari, tipo, farvi leggere... Tipo, non voglio leggere i commenti con gente che dice Marco, ma è facile se provi 150.000 volte prima o poi ti esce Raiquaza. Incredibile. Invece no! Noi... che Pokémon... che Pokémon sto catturando! Voglio vedere qual è... Mi ha sponato un cavallo, intanto. Comunque mi ha sponato un... Un Gurdurr! Oddio! Ragazzi, non credo di aver mai visto un Gurdurr! Vattene! Grazie mille! Comunque, uno scheletro... BASTA! Ok? BASTA! Perché io non posso fare una sfida solo con un Latias! Datemi un Arcius! Non un coniglio! Dai! Vabbè, è un Mien Shao... Ok. Ragazzi, ma quanti mob stanno sponando in questa sfida, ragazzi? Per favore, lasciato a me, mi piace perché... Ci stanno veramente un botto male, ragazzi. Un Wither Skeleton c'era sponato. C'era sponato un... Uno Shellmet! Mi viene incontro, ma... È forse la sfida più sfortunata... Che è la storia dei Lucky Pokémon... Ma è Shiny? Ragazzi, c'è sponato un Pokémon Shiny anche! Ma... Non ci credo, ma io ho tolto i Pokémon Shiny! Ma com'è possibile? I Pokémon al 6! Mi mancano 25 Lucky Block! Pixelmon! Per favore, vuoi darmi qualche Pokémon per favore forte? Leggendario, incredibile... Tu cosa sei? Che non c'è neanche... Non ci sei... Non so neanche a che livello sei che... Qualcuno mi spiega! Per favore! Perché è tutto così tanto diamilmente buggato! Pokémon al 7! Ragazzi, vi giuro! Non ho fatto nulla! Ok? In fondo c'è pure un Absol! Ma perché mi sta andando così tanto male? Ragazzi, neanche un leggendario! Tranne un Latias! E io come la vinco? Una sfida contro 6 leggendari super mega forti! Eh? Almeno questo qua è un... Questo qua è un leggendario! Non mi ricordo il suo nome! Scusatemi, ma mi balza in mente! Eh... Ci sta andando molto male! Ragazzi, credo che sia record per minor numero... Itran! È vero! Era Itran! Record per peggior numero di leggendari nella storia della sfida con i Lucky Block! È veramente assurdo! Allora, qua abbiamo trovato un Pokémon 18, abbiamo ancora 13 Lucky Block! Almeno un leggendario ce lo devi dare! Pixelmon, almeno un Lucky Block ce lo devi dare! E là in fondo, cosa diamine... Perché è la regione di Ponaita questa? Eh, qualcuno me lo vuole spiegare! Intanto catturiamo anche questo! Per favore, datemi un leggendario! 10 Lucky Block! Un lupo! Ma perché ci fa così male? Ragazzi, allora, apriamolo in questo modo da girati uno Snorlax! E poi mi è smalto... È gigantesco! Ma perché è così male? Perché abbiamo 7 Lucky Block? 7 Lucky Block! Allora, 6! Io ne apro uno qua! Ah, ragazzi, il quarto Lucky Block ci darà un leggendario! Io sono sicuro! Perché questo qui capiremo ora è un leggendario! Oh! Ragazzi, è la sfida più sfortunata dell'universo! Non ci voglio credere! Eh, niente! Pensavo fosse un Ivelta o qualcosa del genere, invece no! Ragazzi, ultimo Lucky Block! Se non avete messo un mi piace per questa sfida e non siete ancora iscritti, se siete nuovi, siete delle bruttissime persone! E so che voi non vorreste essere delle brutte persone, ma quest'ultimo Lucky Block spero che sia quello della vittoria! Perché con due leggendari, di cui uno è il 50, cosa diamine possiamo fare in questa sfida? Non ne ho la più palida idea! Eh, 3, 2, 1... Boom! Ma dai, ragazzi, non ci credo! Non ci credo perché poi abbiamo nella sfida qua davanti i tre Pokémon, di cui abbiamo un Articuno e un Suicun, che sono in tipo ghiaccio! Noi questa volta abbiamo trovato solamente un Latias, che tecnicamente anche è un tipo drago, se non erro! E infatti è un drago psico! Sa cosa? Non mi piace, ragazzi, perché è tipo drago, lo sciotta, me lo scioglie nell'acido bollente! Quindi siamo messi veramente un sacco male! E io spero di non avermi messo tipo il Suicuna inizio battaglia, perché almeno voglio fare un po' di gameplay! Però ragazzi, io so che voi credete in me, e io credo in me stesso, anche se è un pochino difficile! E non poteva spawnare magari un Ivelta, davvero un Arceus, un Mewtwo, che magari poteva fare quella cosa lì in più in questa sfida! No! Ebbene no! L'Itran? Perché non hanno preso l'Itran? Datemi il mio... Il mio Itran? Lì cosa c'è? Niente, è un pochino buggato! Datemi il mio Itran! Ragazzi, prima di iniziare questa fight, voglio dire che in realtà ne ho provato un paio, ed è veramente impossibile! Con i due leggendari che ho, affrontarne sei, di cui due di tipo ghiaccio, è impossibile! Davvero, ve lo assicuro! Quindi, purtroppo, devo almeno prendere un paio di Pokémon, i due Pokémon più forti che ho trovato in questa fight! So che nel titolo ho messo soltanto Pokémon leggendari, però purtroppo non mi aspettavo e rifare un video così non ho voglia! Perché comunque la sfida è questa! Però almeno due Pokémon, tra cui i più forti che abbiamo trovato, io li vorrei in squadra! Spero che per voi non sia un primo nel caso! La prossima sfida, la prossima settimana, potrei farla magari una penitenza da parte vostra! E prima era uno Svubat al 2, ho trovato un Pokémon al 2! Madonna mia che sfiga, davvero, qualcosa di assurda oggi! Vediamo poi chi abbiamo trovato, abbiamo trovato sicuramente il Miesha, uno dei più alti di livello! Poi c'era il Claydol che ha il 47, vediamo qua davanti invece che abbiamo, abbiamo un Eleolisk al 53! Però vediamo di che tipo sono, questo qui è un tipo elettro... Allora, mi piacciono, mi piacciono i Pokémon che abbiamo trovato per ora! Quindi, proviamo subito ad andare in fight, speriamo che lui non tiri fuori l'Articuno come inizia sempre! Allora, Eleolisk contro Articuno, perfetto! Proviamo a fargli un Parabolic Charge che purtroppo non sapendo che il nome è in italiano, mi spiace, devo mettere la pixel in italiano ogni volta, mi dimentico! Ne abbiamo tolto un bel po' di danno, credo che più o meno sia un quarto di vita, ottimo! Lui ci ha tolto comunque metà vita, però un altro attacco super efficace, io lo facciamo visto che noi siamo super efficaci! Siamo tipo elettro contro l'Articuno, ottimo! Proviamo a tirarlo giù alla vita rossa, va bene ragazzi, perché almeno un Pokémon che lo riusciamo a tirarlo giù! E questa è la cosa che mi rende forse più felice! Li tiriamo fuori l'Itran, perché tanto con l'Itran li facciamo un paio di crunch e tecnicamente riusciamo a tirarlo giù con un secondo crunch! Ti prego non tirarcelo giù! Ok, ok! Il primo andato, Suicun! Suicun Earth Power? No eh, no, no, non ce la facciamo col Suicun forse! Proviamo a fare un drain punch, abbiamo tolto un po' di vita però eh, e lui non ci ha tolto più di tanto! Ok! Eh sì, stavo per dire ok ragazzi, forse questa fight riusciamo a farcela, invece guardate quanta vita ci ha tolto! Però comunque abbiamo ancora Itran e Latias, voi dite! No, non abbiamo più Itran, è vero, abbiamo solo Latias! È già finita ragazzi, ci è andata troppo male purtroppo questa fight! A meno che forse riusciamo a affrontare un terzo Pokémon leggendario! Moltres! Fermi tutti! Un altro psichico al Moltres raga! Gli abbiamo tolto un bel po' di vita! Lui non ci ha attaccato! Un altro psichico! Ok! Ci ha tolto comunque un po' di vita, non ci ha bruciato! Un altro psichico, io lo tiriamo giù! Fermi perché adesso esce Entei! Ok! E con Entei un altro Psywave cosa gli fa? Ok! Forse l'ha confuso! Ok! Allora un altro Psywave! Lui non ci sta attaccando per nessun motivo! Ha usato Lavaplume, non è tanto efficace con noi! Psywave un'altra volta, ti prego non ci attaccare! Non ci attaccare, no! Ragazzi ce l'abbiamo increduto perché un bel po' di Pokémon gli abbiamo tirato giù! Vediamo un attimino chi l'abbiamo tirato giù! L'abbiamo tirato giù un Articuno, il Moltres, il Suicune e quasi Entei! Ci rimaneva soltanto il Raiko e il Zapdos! Che ovviamente comunque purtroppo con i Pokémon leggendari che abbiamo trovato non possiamo farci più di nulla! Ragazzi! Mi dite a lasciare un bel like e un bel commento! Purtroppo questa sfida è stata veramente sfortunatissima! Però la prossima spero sarà più fortunata! Magari con qualche ospite vediamo! Da MarcheTuto ragazzi iscrivetevi! Guardate i video che sono qua davanti! E quelli che sono là in fondo nella scheda! Mi raccomando con la playlist da MarcheTuto ragazzi! Bella!